Secondo episodio di questa serie sulla linea di comando. Oggi iniziamo a vedere i comandi per la gestione dei file e le varie scorciatoie che la shell ci mette a disposizione per eseguire più comodamente tali operazioni. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Per gestire i file, prima di tutto, occorre avere dei file da gestire. Andiamo a crearci un file di testo chiamato prova1.txt utilizzando l'editore di testo chiamato nano. È doveroso aprire una parentesi per parlare della situazione degli editori di testo sotto Linux che spesso e volentieri sono fonte di guerre religiose. Per ragioni storiche legate ai vecchi sistemi Unix l'unico editor di testo che sei sicuro di trovare sempre installato su un sistema Linux è VI. Il grosso problema di VI è che non è per niente facile da utilizzare. Una barzoletta tra programmatori è che se vuoi generare una sequenza di tasti casuale basta mettere un utente novizio davanti a VI e dirgli di uscire dal programma. Tuttavia, se impari ad usarlo, o meglio, se impari ad utilizzare la sua versione migliorata chiamata Vim, tutti gli altri editori di testo ti sembreranno scomodi e limitati. Forse escluso Emacs, ma questo è un altro discorso. Data la difficoltà di VI, dicevo, molte distribuzioni tra cui Fedora, Manjaro, Endeavor OS e appunto Ubuntu hanno iniziato a installare di default anche l'editor nano. Sebbene io utilizzi unicamente Vim, in questo video ti mostro l'editor nano perché se stai imparando i primi comandi Linux imparare contemporaneamente il funzionamento di Vim diventa troppo complicato. Come vedi, nella parte inferiore dello schermo sono indicati i comandi più utilizzati. Il carattere cappelletto indica il tasto CTRL quindi per esempio la combinazione di tasti CTRL X è quella per uscire mentre il carattere M indica il tasto ALT Anche questo è un retaggio dei vecchi sistemi Unix dove esisteva un tasto chiamato META, da qui la lettera M. Quindi per esempio, a nulla, lo fai con la combinazione di tasti ALT U. Bene, diamo un contenuto a questo file. A questo punto usciamo con CTRL X e ci chiede se vogliamo salvare le modifiche Prendiamo S per dirgli di sì Ora ci chiede nuovamente il nome del file su cui salvare basta premere invio per accettare il nome esistente A questo punto diamo un LS per verificare che il file prova1.txt è stato effettivamente creato Per visualizzare il contenuto di un file di testo si usa il comando CAT che è un'abbreviazione della parola CONCATENA seguito dal nome del file che vuoi visualizzare e vedi che ti mostra il contenuto del file e ritorna subito la prompt Ora, questo è un file corto quindi non ci sono problemi ad utilizzare CAT ma se proviamo a visualizzare un file più lungo tipo .bush.rc vedi che abbiamo lo stesso problema dello scorso video dove dobbiamo scorrere all'indietro Per visualizzare file lunghi piuttosto che CAT è meglio utilizzare il comando LESS Qui per scorrere avanti e indietro basta utilizzare freccia su e freccia giù oppure page up e page down Per uscire premi il tasto Q Ti è sembrato familiare questo modo di visualizzare i file? Ebbene sì, le man page dei vari comandi vengono visualizzate proprio attraverso LESS Vediamo ora come fare per copiare il file appena creato nella directory scrivania Il comando per copiare i file si chiama CP e ha come primo argomento il file d'origine e come secondo argomento la directory di destinazione Come al solito sono pigaro e completo i comandi con TAB Ma come vedi non mi sta completando il nome della directory perché c'è un'ambiguità nei nomi dei file Premendo nuovamente il tasto TAB notiamo che sia la directory scaricati che la directory scrivania iniziano con SC Risolvo l'ambiguità andando a scrivere un'ulteriore lettera e premendo nuovamente il tasto TAB Ed ecco che siamo di nuovo al prompt senza che il comando CP abbia prodotto output Non so tu ma io mi sarei aspettato che al termine della copia il comando CP mi avesse detto che il file è stato copiato con successo Il motivo per cui questo non succede è legato ad uno dei concetti chiavi della filosofia Unix cioè se tutto va bene il programma tace e se c'è un errore viene mostrato il messaggio d'errore E questa è una regola che vale bene o male per tutti i programmi a linea di comando Se non vedi un messaggio d'errore vuol dire che il comando è stato eseguito correttamente Ok, ho mentito prima sul significato degli argomenti del comando CP In realtà il primo argomento è il file di origine mentre il secondo argomento è la destinazione del file Il che significa che se la destinazione è una directory allora il file verrà copiato con lo stesso nome all'interno di quella directory Altrimenti il file verrà copiato con il nome della destinazione Per esempio se voglio fare una copia del file prova1.txt e chiamarlo prova2.txt basta dare questo comando Diamo un ls e vediamo che ora abbiamo un file chiamato prova1.txt e un file chiamato prova2.txt Andiamo a modificare il file prova2.txt giusto per avere un contenuto differente dal primo file Ora per farti vedere un errore molto comune voglio copiare il file prova2.txt nel directory scrivania ma faccio un errore di digitazione Non ha dato errore Secondo te cosa è successo? Esatto, ha chiamato un file chiamato scrivani con il contenuto di prova2.txt Per cancellare un file usa il comando rm seguito dai file che vuoi cancellare nel caso che tu volessi cancellare più di un file alla volta Nota che non ha chiesto conferma per la cancellazione del file lo ha cancellato e basta Come abbiamo visto per il comando copia non ha detto niente quindi nessun messaggio d'errore significa che il file è stato cancellato correttamente Ma torniamo al nostro comando di copia Ah, intanto ti dico un'altra scorciatura di tasti molto utile Nello scorso video avevamo visto come i tasti freccia su e freccia giù richiamino i comandi dati in precedenza Esiste anche la combinazione dei tasti CTRL-R che permette di richiamare un comando dato in precedenza scrivendo qualche lettera consecutiva della linea di comando data Per esempio scrivendo OVA mi richiama l'ultima linea di comando data che contiene la sequenza di lettere OVA che in questo caso corrisponde al nome del file PROVA2.txt Volendo, premendo CTRL-R nuovamente richiamerebbe il penultimo comando che contiene quella sequenza di lettere e così via Ma in questo caso ho beccato il comando che stavo cercando al primo colpo Voglio farti notare che la combinazione CTRL-R è tipica della shell Bash Altre shell, come per esempio FISH hanno questa funzionalità ma con combinazioni di tasti differenti Comando di copia, dicevamo Se voglio copiare un file all'interno di una directory e voglio che mi venga dato un errore nel caso che ho scritto male il nome della directory di destinazione anziché crearmi un nuovo file con il nome sbagliato Allora basta far terminare il nome della directory di destinazione con il carattere barra Se hai notato, il completamento con TAB mette già il carattere barra al fine dei nomi dei directory Ora sai perché E vedi che adesso viene fuori l'errore che la directory non esiste Solo perché molti lo fanno ti faccio vedere che per ovviare allo stesso problema molti, oltre a far finire la directory con barra ci mettono anche un punto Forse per via della notorietà del famoso sito chiamato slash dot E questo comando, di fatto, fa la stessa cosa del precedente Se ti ricordi dalla volta scorsa punto sta ad indicare la directory corrente rispetto al percorso dato Quindi far finire un percorso con barra punto di fatto equivale al nome stesso della directory data È incasinato, lo so ma purtroppo sono in talmente tanti a mettere il punto dopo la barra che ho ritenuto doveroso a spiegare il perché funziona ma anche il perché è totalmente inutile Io concluderei questo video qui Avrei voluto farti vedere molte più cose in questo video ma preferisco fare più video corti dove però spiego bene il come ed il perché delle cose Grazie dell'attenzione Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odissi Trovi tutti i link in descrizione Al prossimo video Ciao Una barzaletta tra programmatori è che se voi genitor Vediamo ora come fare copper